Questa mostra, che ovviamente tanti pezzi vengono presi direttamente dal Museo del Cappello di Montappone, è un'opportunità per far conoscere le eccellenze del nostro territorio a livello internazionale, perché noi dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze, il distretto del Cappello è proprio questo. Quindi questo artigianato, questo saper fare, questa manualità, dobbiamo far sì che vengano fuori il più possibile, perché noi dobbiamo mettere in risalto il nostro territorio. E questo distretto è sicuramente un grandissimo valore aggiunto, perché intanto crea lavoro ed economia in un territorio che appunto è un territorio ovviamente che senza questo distretto sarebbe in grande sofferenza. E poi ricordiamoci anche che l'artigianato è cultura e quindi non dobbiamo dimenticare le nostre origini. Quindi questa mostra dà spazio alla creatività, dà spazio quindi all'estro dei nostri artigiani che portano la tradizione, la nostra tradizione marchigiana del Cappello nel mondo.